Sì, c'è il cammino? Sì, Leo. Posso farlo tirare di dietro? Posso farlo tirare di dietro? Sì. Sì. Da come ha contro strzato tirare davanti? Sì. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ma dove vanno? Non so, non mi capire Non c'è che dobbiamo andare Non so, non mi capire Maquina Non so, non mi capire Non so, non mi capire Se vuoi riprendere anche questo dietro, guarda com'è Non è facile riprendere dietro Non so, non mi capire Non so, non mi capire Non so, non so, non so, non so, non so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.